iniziamo la prossima e ultima conferenza il film le regni animale spero di averlo pronunciato giusto e è il presente il regista a questo punto veramente entro in crisi spero ecco Anna chiedo ad Anna Ribotta ma che ho appena chiesto allora iniziamo e vado con la prima domanda che è una domanda di una banalità sconcertante ma io lo dico ogni qualvolta inizio le conferenze stampa perché vorrei che la sala partecipasse con delle domande quindi adesso accontentiamoci della mia e vorrei sapere appunto come nasce il progetto di questo film in realtà io sorti di un progetto di una serie che mi ha fatto 4 anni sullo tema di l'immortità e quando parlo di l'immortità si è tutto il tempo confrontato al tema della morte quindi fa fa 4 anni che io ero tutti i giorni confrontato a questa temata sono molto meglio inizio e per molto investito a altre cose e ho cercato un momento un progetto che aia in la direzione invece per la vita e anche nella diversità del vivente e è a questo momento che ho incontato Pauline Munier una cosa scon scarye e che aveva creato un progetto in cui avessero discrivati una Commissione tra l'hombe e li animale e questa idea là mi ha veramente interessato, quindi vi ho proposto che noi scriviamo insieme e abbiamo scritto insieme, abbiamo scritto durante due anni, questa storia di storia. Io venivo da una serie televisiva a cui avevo lavorato per quattro anni, il cui tema principale era l'immortalità e quando tratti di immortalità inevitabilmente tratti della morte e io mi sono trovato per quattro anni ad affrontare quotidianamente questa tematica e avevo dunque voglia di andare in direzione opposta e di realizzare un progetto che avesse a che fare con la vita e con gli esseri viventi più in generale. Finché un giorno ho incontrato Pauline Mugnier che poi è diventata la mia cosceneggiatrice che mi ha parlato di un progetto che lei stava elaborando sull'ibridazione tra l'uomo e l'animale e così mi ha interessato e insieme abbiamo sviluppato appunto questo soggetto scrivendolo per un paio d'anni, per due anni. Ci sono domande dalla sala? Sì, prego. Buongiorno, Federico Leonetti, Cine Dams. Vorrei sapere perché ci sono così tanti sguardi nel corso del film? Io l'ho immaginato come se queste criature cercassero un po' di umanità all'infuori di loro, di umanità che hanno perso. Come se queste criature cercano l'uomo e l'infuori di loro. Grazie. Dì la preparazione del film, io mi sono aperçu che il regard allait essere lo che l'on allò più mostrere in questo film. Perché ci sono qualcosa in il regard, io credo che è Lévinas, il filosofo che lo dice, che ci ci empieche di tuer. In l'umanità d'un regard, c'è potrebbe ciò che ci empieche di tuer l'altro. C'è potrebbe il punto commun tra tutte queste criature, che ci sono sempre dei guardi umani. C'è un'unica molto modifiché le corso nel film, con delle prothese, con delle cose, con delle CGI, ma non non ne ha mai retouchato le guardi. C'è importante per me che i personaggi si guardano in gli occhi, e c'è importante anche che gli spectatori guardano in gli occhi, e anche la dernière scena, c'è veramente ciò che ci s'agisce, ci sono dei portrotti di creature, e le creature noi guardano. Noi, noi le guardano, ma le guardano anche, le rendono a le nostre differenze, e anche a ciò che abbiamo in comune, a la nostra umanità comune. Sì, grazie di questa domanda. Ci siamo resi conto fin dalla preparazione del film, che effettivamente lo sguardo avrebbe avuto un ruolo principale tra tutte le cose mostrate nel film, perché guardare negli occhi una persona è forse l'unico deterrente vero che si ha a un istinto omicida che può avere l'altro essere vivente, per così dire. E poi da parte nostra c'è stata la volontà di modificare molto il corpo nella mutazione che questo subisce, quindi siamo ricorsi a effetti visivi, a protesi e anche a CGI, ma abbiamo lasciato assolutamente intatto lo sguardo umano in queste nuove creature. E quindi lo scambio di sguardi avviene in più direzioni. Sono gli uomini che guardano queste creature, sono le creature che guardano gli uomini e entrambi guardano lo spettatore, perché è il modo per riuscire a riconnetterci tutti. Altre domande? Vai, vai. Preferisco che vengano dalla sala piuttosto che farle io, anche se poi c'è la possibilità. Prego. Volevo anche sapere di più della creazione proprio artistica di queste creature, che sono anche il protagonista, sono i protagonisti di questo film. Il corpo, anche la creazione in CGI, le protesi, tutto l'aspetto più artigianale. La creazione è stata di partire sempre del corpo dei attori e di mettere tutte le tecnologie, di non avere una sola tecnologie di tutte le mettere. Quindi, per chacere delle creature, abbiamo un attore che è al centro. L'attore è prognato, ed 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 con il maggiore, con il maggiore, con il prothese. Il è aidato in ses déplacements con il effetto di plateau. Quindi, abbiamo evito tutto ciò che è studio. Non c'è di fondi vero, non c'è di motion capture. On essaia di fare tutto in reale e di avere sempre qualcosa davanti alla camera. E, in dernière limite, quando non ne arriva più, on l'aide con il effetto numerico. Par esempio, nel film, il y a una femmina pulpe che è una course-pursuita con una femmina pulpe in un supermarché. E questa femmina pulpe, è una danseuse che ha creato tutta una chorégraphia per avere una forma di se muovere che non è più umana. On l'a aidato, on ha prolongato ses bras con dei tentacoli in latex articulati. Il y a anche d'autres départs di tentacoli che sono in CGI. Elle è aidata in ses movimenti con dei cables. Elle attrape dei obietti che progetti autour d'elle che sono progetti con dei pistoni hydraulici. Ça va allare? Oui. E' anche una equipe di handball che balanza delle cote di bœuf derrière le frigo. E, in gros, il film è proprio questo. C'è dire che ha dei effetti speciali alla mellies e delle cose che sono molto tecnologiche fatte sull'ordinatore. E abbiamo cercato di sempre di tutto di tutto in modo che l'occhio del spectatore non possa riferire il trucco e anche per avere qualcosa di organico e di vivante davanti alla camera. I due principi di base sono stati uno, lavorare sempre sul corpo degli attori e due, mescolare tutte le tecniche e le tecnologie a nostra disposizione. Quindi, per ogni creatura, per ogni ibrido, al centro c'è sempre un attore, un attore che veniva via via truccato e gli erano applicati ovviamente tutti gli effetti prostetici. Gli effetti venivano realizzati sul set e non in studio. Non siamo ricorsi al green screen né alla motion capture. Naturalmente ci sono degli effetti digitali ma sono stati girati a posteriori e sul set abbiamo creato tutti i movimenti. Per farvi un esempio, a un certo punto nel supermercato c'è questa donna polipo ed è interpretata cioè all'interno di questa creatura c'è una ballerina che ha imparato una serie di movimenti che avrebbe poi realizzato sul set. Naturalmente le sono stati applicati dei tentacoli in lattice per prolungare appunto gli arti e è stata utilizzata per è stata aiutata nel movimento attraverso l'utilizzo di tutto un sistema di cavi e naturalmente poi anche in computer grafica però affiora gli oggetti e li scaglia in tutte le direzioni gli oggetti che prende sugli scaffali di questo supermercato e li scaglia grazie a una serie di pistoni idraulici che vengono utilizzati per questi movimenti poi ci sono stati degli altri effetti per far muovere delle bistecche di manzo all'interno dei freezer per dare l'idea del movimento quando lei li afferra insomma sono effetti visivi speciali che vanno da Mellies fino allo stato dell'arte della tecnologia di oggi perché l'idea era quello appunto di non utilizzare dei trucchi artificiosi di fare in modo che il pubblico non percepisse non riuscisse a decodificare il tipo di lavoro fatto sugli effetti speciali per mantenere comunque un rapporto molto stretto con i personaggi prego possiamo portare il microfono grazie buongiorno volevo sapere avevo due domande una sulla sul processo appunto di mutazione come è stato studiato e come è stato ideato perché è molto particolare specialmente nel film che non si vede solo questo processo appunto di ibridazione tra uomo e animale semplicemente dall'aspetto fisico ma è molto interessante vederlo proprio dalla figura di Fix dell'uomo uccello appunto che cambia anche la voce che difficilmente appunto secondo me altri film di fantasy o fantascienza fanno proprio focalizzarsi anche su degli aspetti che non vengono trattati come il suono la voce che pian piano cambia la seconda aspetta aspetta facciamo rispondere prima se così almeno diamo l'opportunità o l'opportunità Fii caméléon, sarà la fin della mutazione. Quindi abbiamo un spectro di personaggi che permette di raccontare queste diverse fasi della trasformazione. Per l'Homme oiseo, c'était uno dei più compliqui a fare, perché fisicamente è molto complesso e molto fisico. Ma abbiamo un comodio eccezionale, che è Tom Mercier, che ha una forma di lavorare molto particolare, che lavorare di maniera absoluta esclusiva su un progetto. Il diviene veramente il personaggio. La trasformazione di sa voia, tutto ciò che si chiama nel film, viene rigoreusement di ciò che ha fatto su un progetto. Non ne ha trasformato in post-production sa voia. En revanche, lui, durante 6 mesi anni avanti il ha appris a parlare altrimenti. Il s'estititato con dei ragazzi che il metto è di imitare dei oisei. En France, abbiamo dei ragazzi che il metto è di imitare dei oisei. e il ha appris delle tecniche vocali molto particolari. Si ho ho capito, le oiseo produiscono del son in aspirando l'air dove noi, gli umani, produciamo del son in expulsando l'air. Tom, durante des mois a appris a parlare a l'envers. Ça demande un effort de la gorge et de la cage thoracica très important. Par ailleurs, il vivait avec des prothèses d'ailes chez lui. Au bout d'un moment, pendant la prépa, il a même arrêté de parler. Moi, il ne parlait plus au tournage. Il ne s'exprimait vraiment plus qu'en oiseau. Toute sa transformation vocale pendant le film est absolument réel et les performées par un acteur. Innanzitutto, fin dall'inizio del progetto volevamo che questa mutazione fosse più possibile realistica. Spesso, quando, e quindi una prima dimensione è stata quella della lentezza e della gradualità, perché spesso in un film di fantascienza o fantastico la mutazione avviene in modo rapidissimo. L'uomo guarda la luna piena e si trasforma in lupo mannaro piuttosto che il supereroe mette il suo costume e diventa supereroe. Invece, nel film si dichiara in modo preciso che ci vogliono circa due anni per la mutazione del corpo ed è il motivo per cui questa mutazione viene osservata da noi e quindi dallo spettatore con una prossimità precisa alla pelle e ai corpi degli attori siamo incollati a loro e li vediamo cambiare. Se c'è una sorta di spettro dell'arco della trasformazione di queste creature e di questi ibridi che è costituita da Emil, dal giovane protagonista che è all'inizio della sua fase di mutazione poi abbiamo Fix, l'uomo uccello che è in transizione circa a metà e poi la madre e la piccola che sono alla fine della mutazione e naturalmente la creatura più difficile da realizzare è stata quella dell'uomo uccello è stato veramente molto complesso anche sul piano fisico per nostra fortuna abbiamo avuto un attore eccezionale che è Tom Mercier che ha fatto che ha un modo di lavorare assolutamente straordinario e unico di suo quando interpreta un personaggio diventa il personaggio si cala al punto tale da incarnarlo e tutto quello che sentite nel film è quello che abbiamo noi registrato sul set non è stato fatto un lavoro di post produzione sul suo modo di esprimersi e di parlare quello che lui ha fatto per sei mesi è stato addestrarsi con delle persone che praticano questa professione che è il richiamo degli uccelli e ha imparato la tecnica vocale per riuscire a richiamare gli uccelli che di fatto inverte il processo di emissione del suono perché gli uccelli gridano ispirando l'aria mentre noi parliamo espirando noi esseri umani praticamente ha imparato a parlare al contrario facendo uno sforzo micidiale sia nella gola nella trachea che nella cassa toracica e per dirvi il tipo di lavoro che lui ha fatto per calarsi in questo personaggio gli ultimi giorni su set non parlava neanche più cioè era diventato effettivamente fix e una trasformazione completa la seconda domanda ricordandomi poi a Tom Mercier sembra quasi un lavoro comunque simile a quello di Doug Jones e Javier Boutet complimenti comunque per il casting allora la seconda domanda era incentrata sul personaggio appunto del padre qual è stato il lavoro appunto con Romain Dury per costruire un uomo contemporaneo e che non è sempre il padre opprimente o comunque molto tradizionalista che è distante appunto dalla moglie o comunque che vuole avere una presa sul figlio una presa che potrebbe accompagnerlo per tutta la vita ma invece protegge la moglie e protegge il figlio fino alla fine accettando anche appunto la loro trasformazione la trasformazione la trasformazione di sua femme di suo figlio il escuta l'ordere l'institution il va falloir qu'il trouve son courage e c'è tutta la progression c'è 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 son fils qui lui enseigne le courage c'était ça tout l'intérêt pour moi de cette relation entre ce père et ce fils après comment on a travaillé avec Romain Romain c'è un acteur qui est hyper généreux et qui est totalement infatigable il aime beaucoup ça lui pose aucun problème de faire 20 prises d'affilé si on change quelque chose si on a toujours quelque chose a amené de nouveau et moi j'aime bien réécrire entre les prises même la veille au soir j'ai beaucoup réécrit le personnage en fonction de ce que lui m'inspirait Romain a été aussi une inspiration pour ce personnage de François et puis j'ai aussi beaucoup pensé à mon père il y a beaucoup de mon propre père dans ce personnage là est vrai que le personnage de François a une evolución très amplia dans le film il y a beaucoup il y a beaucoup à devenir coerente entre ce que il professage et son mode de agir parce que nous avons que il y a beaucoup de désolée à la disobédience civile il y a lui il primo à achinare la testa à être très obédiente et quasi ossequioso au contraire des médici ou des instituions c'est comme si lui manquasse le courage de agir à quel qui est grâce à la relation que il est la relation du rapport au- Kundé qu'il lui arrive à incarnar au final Romain est un attore estremamente disponible et collaboratif ne lui importe de faire venticac diversi di una scena a condizione che ci siano sempre dei cambiamenti e ci siano sempre delle novità. Io amo riscrivere le scene anche tra una ripresa e l'altra oppure la sera e devo dire che con lui mi ispirava tantissimo per cui continuavo ad affinare il personaggio sulla base appunto di lui che lo avrebbe interpretato. Non è stato solo lui la fonte di ispirazione, è stato molto anche mio padre. Ci sono altre domande? Prego. Abbiamo cinque minuti, quindi forse è l'ultima. Ci ha parlato di un cast meraviglioso, Paul Krischer, come l'ha scelto? Perché è quello che veramente dà tantissimo nel film. C'è il film la pose. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti